Scusate, scusate la mia... Scusate, scusate che io ero nei miei appartamenti in fondo a Loviane e mi è sembrato di sentire nominare lo mio nome. C'è l'avento nei suoi appartamenti, c'è l'avento nei suoi appartamenti. Con questo è vero, parlavamo di lei. Ah, ecco, di me si parlava. Lei sa, caro Fulster, che in questa casa c'è stato un omicidio. Ah, sì? Sì, sì, sì. E io ho tutte le ragioni di credere che l'assassino sia lei, Fulster. Potrei dire trito e anche under trito, trito, under trito, è capunto. Non ho capito. Ah, under trito, trito, certo, certo, è banale, è trito, under trito. Certo, che il maggiordomo sia l'assassino... E infatti l'assassino non è il maggiordomo. Ah, no. E no, e no, e no. E chi è? L'assassino? E lei, Wilkinson. Amore Wilkinson. Ah, fino a poco fa avete detto... Ma si rende conto che le sue deposizioni sono quantomeno contraddittorie? No, 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 e no. E sa perché? Perché lei, caro Wilkinson, e Gunter siete la stessa persona. No, ma per favore, ma dai, ma non scherzi, ma che collina è questa? Non siamo scherzato, ma non diciamo. Ma dai, ma per favore, ma tornagli, tornagli i soldi, per favore, il regista, vai. Ah, la vera verità io, la vera... Ah, la vera... La vera... E stiamoci zitti da quella parte. La vera verità è un'altra, piuttosto, che io so benissimo. Qua non la finiamo più questa sera. Ah, quello che dico oggi. Tu, vai là. Dove là? Questa sera, sì, non vi ho... Dove là? La che? Lì, la luna del poltrono, vai a fare la vecchiazza. Di nuovo? Sì, l'amore. Io non vi ho raccontato un fatto molto importante, che la... come si chiama? Che la contessa... La contessa era mortata a dodici anni. Sì, era morta dalla bellezza. Infatti, infatti, quella sera, una sera, quando muove, un certo punto, Gunter entrò nella stanza della contessa. Fece un rumore infernale per farla svegliare. La contessa, quando vide Gunter, che fece? Che fece la contessa quando... Il resto di niente, perché neanche sapeva che era l'esistenza di Gunter. E allora, mentre cosa fece, approfittò del fatto per smascherare e sapere chi era la contessa? Era la Tamara! Lei, sì, che in dodici anni fa l'aveva uccisa per prenderteli un posto. Si parla! Luci! Che che state... Ma che caspita state dicendo? Come posso essere io la... 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 Io non può essere assassina, io. Non può essere. Perché voi avete detto che assassina si chiama Tamara Raduniescu. Ma non è mio nome Tamara Raduniescu, no signore. Io mi chiamo... mi chiamo... mi chiamo... Ah, mi chiamo... no, mi chiamo... Si signore. E io sono detective del KGB. Ed ero su tracce... su tracce di Bill. Perché era... era scappato dai nostri camp. Però io... L'ho seguito... di soppiato. Sono... sono andato al castello. L'ho seguiti che amoreggiava. Con la costintessina. E io, bravo detective, ho scoperto che Bill non è altro che... Arthur, l'assassino della contessa. Luci! Si va! Ma che cazzo? Tutti lo stupido! Ma non lo stupido! Ma non lo stupido, ma non lo stupido, ma non lo stupido. Ma non lo stupido, ma non lo stupido. Ma non lo stupido, ma non lo stupido. E io pensavo... E no, perché poi io ho scoperto, in realtà, facendo delle mie cose, che... 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 che Hilde, in realtà, non era altri che... Ah, ahia! Mi fai mal... sono i miei! Ah, fa culo! Ma insomma, non così fiega la mia! Non mi fiega la mia! Bene, ragazzi, io mi sento meglio. Iniziamo? Mamma! Perché? Che è successo? Che è successo? No, ma non lo stupido, ma non lo stupido, ma non lo stupido... No, 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 no neladago, no, 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 no La 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 Grazie! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!